Grazie Leonardo, ladies and gentlemen, welcome to Florence, I'm proud to be here for this meeting and we'll continue in our language also because as you know, Italian language is part of our cultural heritage quindi se parliamo di cultura dobbiamo anche in questo caso omaggiare la nostra lingua italiana Firenze e soprattutto la città di Dante. Ringrazio per questo invito ad un incontro molto interessante anche perché tocca un argomento che io ho avuto modo di trattare per molti anni quando ho insegnato legislazione dei beni culturali all'università di Firenze e mi sono occupato anche di questi aspetti concernenti le controversie internazionali. Io credo che quando ci chiediamo che tipo di strumenti dobbiamo utilizzare per superare le controversie internazionali dobbiamo anzitutto affrontare il tema della regolazione. Il settore dei beni culturali è un settore molto diversificato nei vari paesi. È difficile trovare una legislazione omogenea, anzi è uno di quegli ambiti dove le leggi sono a livello di ordinamenti nazionali sono molto diverse tra di loro e credo che questo sia il primo grande ostacolo alla risoluzione efficace e rapida delle controversie che riguardano la circolazione internazionale dei beni culturali. Possiamo dire che l'Italia è il paese al mondo con la legislazione più avanzata ovviamente. Il codice dei beni culturali, il decreto legislativo 42 del 2004 è una summa di tutto l'iter di evoluzione legislativa che in Italia è cominciata già nel 600 con i primi editti papali e le normative degli stati preunitari. Molti paesi guardano l'esperienza italiana per quanto riguarda la disciplina dei beni culturali. Il punto qual è? È che noi siamo fin troppo rigorosi e dettagliati nel disciplinare le casistiche e le tipologie dei beni culturali e questo dettaglio non lo si ritrova nelle altre legislazioni, negli altri ordinamenti, soprattutto se andiamo verso il nord Europa o addirittura se usciamo dall'Europa, pensiamo all'Asia o agli Stati Uniti. È evidente che i paesi che hanno delle norme più articolate e dettagliate come appunto l'Italia risentono di una presenza di patrimonio storico artistico molto importante. Per questo l'Italia ha una legislazione così articolata e complessa perché ha dovuto affrontare per secoli il tema della conservazione e della valorizzazione dei beni culturali e delle opere d'arte e non è un caso che nei paesi dove invece c'è una minore sensibilità verso il tema della conservazione dei beni culturali c'è anche una legislazione molto più semplice, anche lacunosa e superficiale. Ciò che è un bene culturale per la legge italiana non lo è per la legge inglese, ciò che è un bene culturale per la legge italiana non lo è per la legge tedesca e ciò che è un bene culturale più o meno per le legislazioni europee degli stati europei quasi certamente non lo è per gli Stati Uniti d'America. Quindi il primo problema è a mio avviso garantire la massima omogeneità possibile alle regolazioni dei vari Stati nazionali del campo dei beni culturali perché se tutti gli Stati quantomeno a livello europeo si ritrovassero d'accordo sulla tipologia del bene culturale, sull'individuazione del bene culturale allora potrebbero gestire molto meglio i problemi legati alla circolazione. Gli strumenti ci sarebbero perché in realtà a livello europeo sono stati fatti dei passi in avanti. Il Trattato di Lisbona attribuisce una grande importanza alla cultura e infatti si fa esplicito riferimento alle eredità culturali e religiosi e umanistiche dell'Europa. Il Trattato di Lisbona tra gli obiettivi prioritari dell'Unione Europea indica ad esempio l'impegno a rispettare la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e a vigilare sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo. E poi sempre l'articolo 6 del Trattato stabilisce che l'Unione ha competenze per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri. E quindi la normativa comunitaria indica una strada. Il punto è che cosa intendiamo noi per patrimonio culturale europeo? C'è una definizione che è valida per tutti i vari paesi? Cioè ciò che noi intendiamo per patrimonio culturale europeo in Italia è lo stesso inteso dai tedeschi o dagli spagnoli o dagli inglesi o dagli svedesi? Probabilmente no, non abbiamo ancora svolto un lavoro a mio avviso sufficiente di omogeneità, di visione, concettuale dunque anche legislativa e normativa, del patrimonio culturale da parte dei vari paesi. E quindi queste differenze generano poi difficoltà a livello di relazioni internazionali perché se un bene culturale non è riconosciuto come tale in Inghilterra ma invece è considerato bene culturale in Italia è evidente che questo costituisce una difficoltà nello stabilire diciamo una relazione omogenea, paritaria. Ecco quindi io credo che la prima sfida per superare le controversie internazionali sia proprio la sfida delle regole e della definizione giuridica che noi diamo del patrimonio culturale e delle sue diverse rappresentazioni. La seconda sfida forse più politica e chiudo qui è una sfida che riguarda il valore che noi vogliamo riconoscere alla cultura e più specificatamente ai beni culturali nelle relazioni internazionali. Io penso che la cultura sia davvero un elemento straordinario della diplomazia internazionale. Qui c'è in sala Francesco Rutelli che da ministro ha svolto alcune operazioni molto interessanti nell'ambito degli scambi culturali tra il nostro paese ed altri paesi del mondo, penso soprattutto quelli asiatici, il Giappone. Mi stupisco che ogni qualvolta l'Italia presti un'opera d'arte ad un altro paese scoppi sempre una polemica. Io mi rendo conto che ci siano delle opere che rappresentino degli elementi intoccabili, va bene, sono le famose opere indisponibili che sono la parte centrale di una collezione di un museo. Però noi dobbiamo riflettere sul fatto che il patrimonio culturale, proprio perché è di valore universale, appartiene a tutti. Appartiene giuridicamente a chi ne è il proprietario, ma appartiene concettualmente all'umanità. E allora la circolazione dei beni culturali è un valore che va verso quell'obiettivo di fruizione universale dei beni culturali. In buona sostanza la domanda che io faccio, anche come provocazione, a cosa serve conservare le nostre opere d'arte se poi non le facciamo fruire? Che senso ha tutelare un patrimonio se poi non viene promosso, non viene valorizzato? Qual è il fine ultimo della cultura? È quello di autoconservarsi in eterno o è anche quello di aumentare la coscienza critica e la consapevolezza dei cittadini di tutto il mondo. E se l'obiettivo della cultura deve essere non solo quello autoreferenziale di autoconservarsi, ma quello di costituire il più grande strumento di emancipazione sociale e civile delle persone, allora noi dobbiamo equilibrare la conservazione con la fruizione, la promozione, il godimento dei beni culturali. E se dobbiamo consentire al più grande numero possibile di persone nel mondo di fruire, di godere del valore delle nostre bellezze artistiche, allora dobbiamo mettere in campo degli strumenti che possano facilitare la circolazione. Qui però c'è un tema politico, perché troppo spesso noi difendiamo il patrimonio storico-artistico con un atteggiamento proprietario. Il nostro lo dobbiamo difendere, lo dobbiamo chiudere e troppo poco spesso invece valorizziamo l'aspetto universale che è insito in qualunque opera d'arte, in qualunque monumento che abbia ovviamente una sua rilevanza. E qui è necessario che l'Italia faccia qualche passo in avanti e che si possa costruire intorno ai beni culturali una vera e propria cultura diplomatica. È stato fatto da alcuni politici lungimiranti, secondo me lo si può fare molto di più. intendo dire potenziamento degli scambi culturali tra i musei, intendo dire collaborazione in tutta una serie di progetti che riguardano la valorizzazione, l'innovazione tecnologica, la fruizione digitale dei beni culturali e anche la sfida digitale. E qui chiudo davvero. L'innovazione digitale sta andando talmente veloce che ormai è possibile riprodurre dall'altra parte del mondo, in 3D o comunque addirittura in realtà virtuale, tutto Palazzo Vecchio con i suoi affreschi, le sue stanze, le sue scale. E quindi un signore seduto a Los Angeles a casa sua con una mascherina digitale si vede tutte le opere d'arte che vuole come se fosse un'esperienza quasi realistica. Io credo invece che noi dobbiamo difendere anche la fisicità, la materialità del rapporto tra l'uomo e l'opera d'arte. Cioè l'impatto sensitivo che tu hai di fronte ad un'opera d'arte in una relazione reale, spaziale e fisica, non è eguagliabile da nessun tipo di strumento digitale e tecnologico. Siamo d'accordo su questo. Perché altrimenti non avrebbe più senso venire a visitare Firenze. te ne stai a casa tua, ti compri un bel programmino e te la guardi tutta nel tuo nuovo ambiente virtuale 4D seduto sulla poltrona. È fondamentale preservare il principio del genus loci. Cioè l'opera d'arte ha il valore nella misura in cui nasce in quel luogo e tu vivi un'esperienza fisica, materiale, sensitiva con quell'opera d'arte. Per questo io credo che dobbiamo promuovere una corretta circolazione delle opere d'arte. Perché se non si muovono le opere d'arte allora noi vedremo una deflagrazione, secondo me, della industria digitale che riprodurrà in modo virtuale le opere d'arte ovunque nel mondo. E si perderà, secondo me, il significato e il valore di quella relazione fisica che ci deve essere. So forse di essermi un po' allargato nella riflessione, ma credo che questa giornata sia molto utile perché parlare di tutela dei beni culturali non serve se allo stesso tempo non si parla anche di fruizione, di promozione e di valorizzazione delle nostre opere d'arte. E se c'è un settore che trasmette messaggi e principi di pace, di universalismo, di fratellanza, quel settore nel mondo è la cultura. Se noi impegniamo i nostri governi anche economicamente a investire sulla cultura avremo un'industria della pace. Perché conviene, come diceva Giorgio Lapira, la pace conviene, non è solo giusta, conviene. E anche la promozione della cultura conviene, non è solo moralmente giusta, conviene. Perché dove c'è sviluppo culturale c'è meno guerra, c'è meno scontro. Non è un caso, non è un caso, che il terrorismo ha due obiettivi, le vite umane e le opere d'arte. Perché l'ISIS ha attaccato il Museo del Bardo a Tunisi? Perché i terroristi hanno attaccato i siti archeologici di Petra e in Giordania. Perché i terroristi colpiscono i monumenti e i simboli culturali? Perché i beni culturali sono il più potente elemento simbolico di rappresentazione delle radici di un popolo e di una civiltà. Quando colpisci un'opera d'arte colpisci al cuore una civiltà. E dunque, per sconfiggere la logica della violenza, della guerra e del terrorismo, noi dobbiamo imporre la logica dello sviluppo culturale e della promozione culturale. È la cultura il primo vero antidoto della violenza, del terrorismo e vorrei anche dire dello scontro tra civiltà e tra paesi. Per questo vi do nuovamente il benvenuto e vi auguro una buona e proficua giornata per questi lavori.